rilassati rilassati ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi oggi sono qui per registrare un video all'aperto perdonate per, penso siano api ci sono alcune api qui in giro io non ho paura delle api anzi sono tanto preziosa però insomma spero non vengano troppo fastidio oggi ho deciso di fare un video all'aperto c'è anche un po' di vento sono le due del pomeriggio di venerdì non vedo il pomeriggio e visto che appunto la natura sta dando il suo meglio in questo periodo e noi siamo reclusi in casa volevo portarvi un po' fuori ovviamente perdonate se ci saranno parecchi rumori esterni ma sono fuori all'esterno quindi non si possono troppo evitare avevo pensato all'inizio di farvi fare un tour del giardino con un po' di alberi così però non tutto è ancora fiorito e l'orto non c'è ancora praticamente niente quindi hanno appena aumentato le fragole c'è un inizio di rucola ma non ci sono un po' potere non c'è niente quindi pensavo di aspettare magari in mezzo all'estate di fare invece un tour ci sono le zucchine eccetera dopo però vi voglio far vedere invece bene l'albero qui dietro su Instagram ve l'ho fatto vedere lì si vede un pochino molti mi dicono che sia un ciliegio questo non fa i frutti però può darsi che sia un avventale non mi intendo molto di queste cose e niente mi sono portata qui anche un ravetto spero vi rilassino tutti i suoni della natura gli uccellini le api mi piace tantissimo questo sfondo tipo con la maga mi piace veramente un botto tra l'altro è una bellissima giornata non soleggiata di sole nuvolò e quindi si sta benissimo fuori mi piace prendere il sole però oggi è perfetto per girare non vi aspettate chissà che video volevo solo sì fare i video in una location diversa per cambiare ogni tanto questo trigger si chiama il tracing tracing sull'aria mi piace tantissimo faccio un po' di trigger con questo e andiamo sul microfono non è male oggi in questo video volevo approfittarne per fare una riflessione che vi ho condiviso anche con un po' su instagram non mio ma che rifletteva molto che diceva molto bene tutto ciò su cui stavo riflettendo questo discorso è perfetto perfetto per questo video fatto in mezzo alla natura in sostanza diceva che vi dico ed è un grandissimo segnale che la natura non ha bisogno di noi per niente anzi la natura ci sta ci sta andando a fare in questo periodo e e bisogna sempre ricordare che siamo noi gli ospiti su questo pianeta non il contrario non siamo i padroni e quindi io spero che da tutto questo noi impareremo anche a rispettare un po' di più la natura a seguire i suoi ritmi i suoi cicli e le sue esigenze e non a cercare di dominarle per per le nostre esigenze sempre più alte sempre più alte sempre più alte insensate mi è voluto veramente molto da rifletterci perché davvero noi come esseri umani parte della natura e come anche parte dobbiamo rispettarla davvero io spero che voi tutti riuscirete ad apprezzare di più adesso ogni volta che vedrete un fiore ogni volta che vedete un albero tutte le piccole cose ma grandi che la natura ci offre spero riuscirete ad apprezzare molto di più come sto facendo io a soffermarvi sulla bellezza dei fiori sul suono degli uccelli che cantano sul suono del ruscello che scorre e queste cose ci sono non certo grazie a noi indipendentemente da noi mi viene in mente la sigla una delle sigle dei buffi i buffi sanno che è un tesoro è il fiore accanto a te forse ho sbagliato due parole mi hai in vergogno molto perché io adoro i buffi però la sostanza era questa davvero cioè se un cartone ve lo dice fin da piccoli ci insegnano rispetto alla natura non a caso viene chiamata madre natura i mari puliti i lani cristallini quanto è solo l'aria più pulita non so se avete sentito le notizie che anche qui nel mio comune nella mia città dei taini sono andati in centro in centro di una cittadina di campagna diciamo così ma anche considerata città e tranquilli nelle strade una famiglia di sei taini è davvero il concetto che si stanno riprendendo il loro spazio e questa cosa è stata bellissima e triste allo stesso tempo spero di averlo adesso facciamo un po' di questo visual trigger e poi volevo farvi mettere i miei panni sulla maga magari metterò questa parte a fine video in modo che se qualcuno può dar fastidio può farmi il mal di testa può saltarlo direttamente tra l'altro io adoro questa maga per me è stracomoda l'ho comprata mentiera in un mercatino dell'usato troppo contenta ok so che questo video è veramente molto a cuore adesso vi faccio vedere un attimo dei fiori che ci sono qui in giro degli alberi fioriti e spero davvero che questo video molto semplice vi abbia fatto un po' uscire anche solo virtualmente dalla routine che abbia fatto riflettere sicuramente quando si portrà io andrò molto di più al parco e a fare delle passeggiate cosa che prima non facevo spesso devo dire la verità che bello il rumore del 5D degli uccelli è una melodia rilassati rilassati perdonate i miei capelli li devo lavare anche quest'albero qui dietro è molto bello molto alto mi faccio provare un po' la magra guardate che belli di queste margheritine che mi fanno molta tenerezza la mattina perché sono tutte chiuse perché non c'è il sole c'è freddo e dopo si aprono e prendono il sole che belle proprio belle queste margheritine le pratoline vi faccio vedere solo un po' le fragole il mio basilico ciao basilico buonissimo e la rucolina ciao rucola qui ci saranno tutti i pomodori e lì sotto ci saranno le zucchine c'è il rosmarino con tutti anche i suoi fiori che bello dove dovrebbero nascere le zucchine qui ci sono degli altri fiori e qui volevo farvi sentire un po' lo so è bruttissimo da vedere però volevo farvi sentire il suo del piumiciantro l'uscello no guardate non so se riuscite a vederle lì in fondo in fondo in fondo in fondo in fondo ci sono due una tre fondissimo le vedete le vedete lì no che dolci ma ciao ma ciao le vedete le vedete le vedete le vedete le vedete le vedete guardate che dolci ma che carine ma che belline non so se ha a fuoco a fuoco a fuoco a fuoco non so io rimarrei proprio così cioè io vi farei anche ascoltare proprio un'ora del video semplicemente così a rilassarsi proprio non so neanche cosa sto dicendo mi sto venendo un po' proprio post post pranzo devo dire anche la verità spero anche sia buona qualità dello Zuma H5 perché ormai sono talmente tanto abituato a usare i road che tutte le altre qualità mi sembrano così basse dei miei video ovviamente a parte Blue Yeti mi sta piacendo molto attivamente niente sembra che stessi bevendo qualcosa che stessi cantando a scorto a cuore ok io chiudo qui il video così posso andare a dormire posso appollaiarmi su questa maga e dormire un po' e l'altro non è vero dobbiamo andare a fare il gelato quella gelatina devo dire che mi sto molto rilassando sulla maga e sapete che penso vi darò la buonanotte così mi sento un po' come se stessi facendo tipo un vlog però spero spero davvero questo video molto semplice mi sia piaciuto e penso proprio sia giunta l'ora di abbassare le luci ci 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 Buonanotte, 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 spero di avere questo video semplice, 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 veramente poco preparato, vi sia piaciuto, spero vi abbia proprio un fuso, spero che vi abbia un fuso, un senso di serenità, di pace, di gioia, perché no? E ditemi se vorreste magari altri video fuori in giardino qualche volta, che perché no magari riuscirò a farli. E non voglio finire il video perché sono veramente rilassatissima su questa maga, mi sta veramente bene fuori. Buonanotte, 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 buonanotte. Buonanotte, 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 buonan Grazie a tutti. Grazie a tutti.